Non conoscevi questo ristorante in Via della Viola. Siamo in centro a Perugia e siccome ormai il ristorante di Via della Viola li ho provati quasi tutti, volevo mangiare anche all'osteria il gufo. Ed ho scelto proprio l'ultimo giorno dell'anno, infatti come vedi qui abbiamo il menù normale e quello di Capodanno. Quindi andiamo con questo menù di pesce che comprende polipo alla griglia con crema di patate. Davvero molto molto buono. Zuppetta di fregole, seppie, calamari e gamberetti. Linguine alle vongole e bottarga. Filetto di tonno alla griglia. Ed infine la torta alla nocciola, cioccolata, arancia servita con il gelato. Salva questo reel se...